I problemi che si affrontano soprattutto sono da un lato la carenza da parte delle donne della consapevolezza che hanno dei diritti, diritti a farsi curare, diritti a stare bene, a sorridere, avere una vita di qualità. Molto spesso quello che facciamo si diventa ad ascoltare una cosa a cui le donne non si sono abituate, questo servizio che non esiste. Quindi ascoltiamo, cerchiamo di capire con loro, di aiutarle in un percorso di appropriazione di quello che è il loro benessere.